la morte e la morte non è solo l'unica cosa stasera perché stasera è anche una live dedicata all'amore al giubilio al giubilio ai saluti ai festeggiamenti non si sente un cazzo non sento un cazzo perché non sento un cazzo fermi pronto che è successo stai smicchiando ma perché non funziona mai un amico calmi ah ok si stava smerdando il mixer fermi un attimo adesso vi sento vi sento pronto si ma vi sento vi sento o no non so se vi sento vabbè voi sentite me sentite me mi sentite io sento bene perfetto apposta stasera stasera si festeggia bestiace perché si festeggia perché non poco tempo fa esattamente il 15 ed esattamente il 21 due dei nostri membri delle due bestiace scapostipiti di coop tv hanno fatto gli anni uno dopo l'altro giusto per rompermi i coglioni e insomma incasinare un po tutto con i regali che tra l'altro non sono ancora arrivati e che nel momento in cui sono persone che sono autosufficienti ecco cazzo gli regali a qualcuno che ha già tutto beh bella domanda bella domanda fatto sta che comunque il nostro zadek moderatore il 15 ha fatto gli anni quindi auguri fate gli auguri a zadek per dio fate gli auguri a zadek tu che cazzo parli andrea non è ancora il tuo turno bravi fate gli auguri così si fa e e e e ma perché non sento le notifiche stasera vabbè non so che cazzo gli piglia oggi a streamalabs ma perché sa zera il volume da solo perché sa zera il volume da solo non si sa e ma che cazzarola adesso qua si sta impallando tutto fermi e andrea andrea il 21 invece ha compiuto gli anni incredibile incredibile uno dietro l'altro è due leoni due leoni adesso sento le notifiche che bello quindi auguri maestro auguri altro maestro due maestri maestri dell'occulto di discordia e menzogna che oberano nell'oscurità della chat e vi tengono d'occhio andrea ogni tanto si degna di farsi vedere ma sarà più presente sarà più preponderante a breve andrea farà anche le sue live attenzione twist così lo dico a cazzo fanculo a breve ci saranno probabilmente delle live pomeridiane condotte solo dal maestro mi sono cagato addosso chi è chi cazzo è giant beast grazie mille no era giant beast non ne ho idea ho visto una roba non ho capito chi cazzo cosa è successo ragazzi ma perché non funziona streamalabs ah jomux grazie mille bestia c'era tutta la halla no grazie per l'uno auguri festeggiati grazie grazie tanti soldi andando a me detto ciò comunque complimenti complimenti per niente invecchiare bravi voi due bravi a tutti quelli che hanno fatto gli anni nello stesso giorno ciao non spendete i soldi per il totem oggi non giochiamo a cult of the lamba mi dovete fare incazzare stasera giochiamo a mortuari stasera facciamo l'horror night la cui protagonista dovrà imbellettare impellettare infilare le mani dentro i corpi pulirli e prepararli a boh non so che cazzo ci debbano fare magari qualcuno è morto solo non ha una famiglia quindi non c'è un vero e una vera e proprio funerale ma se cosa succede pronto non funziona un cazzo cosa succede se nessuno conosce il morto che nessuno va a fargli il saluto fanno una veglia non lo so come funziona lo sto chiedendo onestamente cosa fanno c'è tipo il paro che dice siamo qui sono qui riunito per lui già e se ne va come funziona ci sarà qualche persona che muore da ci sarà qualcuno che muore solo ci deve essere lo bruciano che c'entra che lo cremina un'altra roba io parlo della veglia la telecamera rotta mia nonna è morta sola se tua nonna non può essere morta sola non ci siamo capiti nel senso che nessuno va al funerale toh è spiegato meglio gli danno il bacio della buonanotte ottimo lo buttano in una buca elegante esistono persone che fingono di essere parenti del morto no ma quello lì è le vedove che piangono non sto bene con lo stomaco le vedove che piangono le vedove che piangono alla ragazzi lo cremano non ci credo siete dei bugiardi se una cosa ci ha insegnato se la peste qualcosa ci ha insegnato che i corpi vanno mantenuti lì vividi sul prato a marcire perché no dai reflusso perdino esatto persone che vengono pagate per piangere e beh c'è gente che viene pagata per scopare che male c'è e dico io che male c'è grazie mannaggia già per gli 11 grazie zizi grazie asto grazie fermi fermi grazie alce falce grazie vivi grazie operator twitch che ha regalato a yumi park quindi yumi park sai chi minchia ringraziare di ara di a draba els in hell e il kiss hug ma che cazzo war melon ita e poi lucy che sono sia persone che sono si sono iscritte sia persone che si sono sabbate grazie bestiacci a tutti quanti voi grazie 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 buttano da qualche parte il corpo ma io vi leggo su serio cioè io sto leggendo con con voglia di imparare quindi non dite minchiate perché poi ci credo io abbocco le stronzate su internet pensate ieri sera mi ha scritto uno zio un parente che non sapevo di avere dall'africa mi ha chiesto il conto corrente dice che voleva darmi tutti quanti i suoi beni e io così ho fatto tra cinque giorni teoricamente dovrebbe arrivarmi un bonifico certo vi saluto adesso vi saluto è certo che ho accettato ragazzi non sia mai che io divento il sequel del principe cerca moglie 2 perché prima era il principe cerca moglie il secondo è il principe trova ha trovato moglie ne vuole trovare un'altra il principe divorzia sarà il 3 come funziona non ne ho idea matt jess red chinax daxin eccolo lì ciao daxin denise red mette di nuovo alice che poi dopo il compleanno di daxin mi hanno detto c'è tutti porca trama tutti insieme volete nascere dio buono alex doppia mette di nuovo branzino imperius minch names pure crash gdda denke grimilde grimilde si l'ho letto bene flavia stefano fox julia adelaide inculator inculator in complimenti aldwin poi stream ha eliminato dei messaggi quindi non ho letto chi era polifemo garod eccolo lì matt sempre il garod è sempre il primo lillo eric penna e chi è l'ultimo invece chi è l'ultimo di voi l'ultimo di voi è fermi 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 qui 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 c u e y p questo è il suo nome come si pronuncia qui non è vabbè ciao tutti quanti voi bentornati bestiacci si inizia giocare allora la scorsa volta ci abbiamo provato e abbiamo fallito perché tra bug e altro non riusciamo ad arrivare alla fine del gioco e cercare di slocare il finale buono ma stasera ce la facciamo ma ho letto qua che c'è un trofeo guardate 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 cari amici di striscia c'è un trofeo che si chiama speedrun dove devi battere il gioco sotto i 45 minuti 45 minuti è il tempo medio che impiego io per uno dei tre cadaveri da fare quindi ma che famolo ma che cazzo è complimenti a curo lili che ce l'ha fatta e anche a star a quanto pare che non ha un cazzo da fare ce l'ha fatta pure lui allora io adesso qui ve lo dico a me non me ne frega un cazzo di fare i giochi per bene io non faccio i giochi per bene ragazzi lo avete visto io io non so cosa faccio ma sicuramente non li faccio per bene va bene ognuno c'è i suoi i suoi pro il mio pro il mio pro è un contro non mi rompete il cazzo ci sono sette finali diversi ma se sono quattro no se sono cinque ci sono cinque pallini ma sono sette finali diversi e ma perché due sono segreti bene bene se li tengano questi cazzo di segreti a me non mi interessa saperli ottimo non sono una persona curiosa mi faccio i cazzi miei sono sei dino ci sono altri altri cinque dino cosa state dicendo siete dei pazzi 45 minuti impegno per trovare un marchio quando brucio il foglietto vabbè partiamo ce la facciamo non credo però proviamoci importante è provarci sono cinque più due segreti visto vesta sta partendo il gioco nel mentre io prima si era bugato l'audio quindi continuava ad andarmi su e giù la come si chiama la lineetta del il mixer di windows continuava ad abbassarsi e abbassare aumentare volume da solo quindi io spero funzioni ma non garantisco nada e infatti vedete che stringo sto per vomitare bile sul monitor quindi siamo molto calmi allora gioco andiamo a stringere il gioco il gioco è stato stretto di qua voilà ma alla notizia che forse andrea streamerà da solo come avete risposto perché non ho letto dai un bacio al esserino peloso esserino peloso è in punizione perché fa bene non perché ha fatto qualcosa di particolare perché la punizione fa bene dai raga è la volta buona che stream andrea continuiamo al terzo shift no di pomeriggio ragazzi pomeriggio ci sarà andrea la sera ci sarò io dopo ci dopo ci organizziamo bene sarà figo lui farà qualche giochino che magari non è nelle mie corde perché giustamente abbiamo dei dei gusti diversi io dei bei gusti lui dei gusti di merda però insomma magari t'ho un uomo nudo a naked man perfetto eccoci qua bentornati oh mi mancava mi mancava questo profumo di formaldeide bene questa porta la teniamo ben chiusa ben salda che cazzo devo fare ho visto dei vermi per terra ah già dobbiamo iniziare l'ispezione ma indovina un po non c'ho voglia eli woods elijah wood ha un tono di insomma me lo ricordavo diverso elijah wood vabbè qui abbiamo il nostro frodo il nostro il nostro hobbit e vabbè ispezioniamo partiamo dalla faccia ne ha tirato un pugno perfetto povero frodo vediamo se ancora l'anello il mio tessaro non ce l'ha aspetta che rotate the palm deve essere un vigile un vigile non so se avete visto aveva questa manualità questo modo di fare abbastanza questa mano a paletta per fermare il traffico e per educare anche perché no ceffoni su ceffoni qua che gambe liscissime io non posso neanche pensare di sperare di avere delle gambe così meno male altronde sono un uomo cosa ragazzi non sono molto avvesse alla depilazione va bene lo dico tranquillamente perché depilare di certo mi viene una domanda fatidica perché 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 mai ci rasiamo le palle ma ci facciamo crescere la barba noi uomini bella domanda beh è colpa di voi signore che rompete il cazzo allora c'è altro da fare 33 che posto ho fatto tutto beh è incredibile ma quanto ne mancano di quanti mancano di morti da spulciare l'ultimo no è il primo qualcuno sta parlando là fuori io faccio finta di niente allora head shoulder l dove sta qua va qua perfetto la le mangioma abbiamo un abrasione media sulla spalla destra poi abbiamo una talpa sulla spalla io sono inglese perfettamente ragazzi quindi tra poco proprio abbiamo una mole quindi una talpa sulla mano destra abbiamo poi a blemishes quindi una benedizione sulla gamba sinistra destra e basta direi ho vinto buono ci sono jumpscare poi cosa ha caricato no 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 il gioco ha caricato qualcosa è palese non mi piace beh ho vinto palesemente ho vinto ciapa su ciapa giù pronto sera boni questo mettiamo qua a posto a posto cristo ancora lì cristo non si muove la apriamo sta porticina perché ogni tanto partono degli eventi no nel gioco ma se noi facciamo interagiamo con gli oggetti prima ancora che lo faccia il mostro siamo a posto abbiamo vinto il mostro non può più farci niente o no durante il primo corpo non succede mai troppo ma teoricamente questo è già il secondo teoricamente a eccola l'ha visto visto durante il primo corpo non succede mai cazzo va bene tanto ormai è risaputo sappiamo già cosa succederà buono buono chiudiamo la porticina c'è passù no 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 la yecap se no questa la fastite la yecap se è giù un po un bisturi ecco qua un po di bisturi un po di forbici perfetto la yecap perfetto ottimo manca un po di colla vinilica e ci siamo ragazzi siamo pronti per il nostro art attack perfetto mi raccomando fate molta attenzione quando fate questo passaggio perché è facile che si spacchi la mascella ai denti mi raccomando magari provate su un parente prima esercitatevi soprattutto con l'ausilio di un adulto esercitatevi ok ecco qua perfetto invece questo è questo il detto cuciti la bocca beh noi lo facciamo sul serio voi siamo persone serie buono a che serve ma che serve questo ma io che cazzo ne so non sono dottore ma detto di farlo lo faccio è divertente qui chiudiamo le palpebre ottimo non c'è nessun mostro ottimo poi che devo fare il l'embleming pump allora c'è il tizio bianco mi devo andare a vedere se la mia macchina si è acceso l'allarme questa era l'allarme della mia macchina me lo sento addosso ragazzi me lo sento me lo sento che mi asima sulla 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 nuca è una nuca molto lunga come potete vedere arriva da qui dalle sopracciglia fino al buco del culo quindi un po' particolare allora poi il metanolo che non è questo è sbaglio sempre perché mi giro poi mi giro a scatto mi sto girando male stasera metanolo eccolo qua voilà poi il glutare il glutammato il glutammato e chi lo qua a posto buono e poi serve serve un po' di lacrime di diavolo a posto easy boe metti giù voilà farò per a no devo fare aspetta 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 opla mi servono le forbicine ce li abbiamo mi dimentico sempre di prendere i tubi madonna mia ho paura che qualcosa stia nell'armadio un gremlins qualcosa zitti zitti sta per succedere sta per succedere sta per succedere sta per succedere ok 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 era solo un fulmine era solo un fulmine si è spenta la luce no si è spenta la luce si è spenta la luce c'è qualcuno pronto si è chiusa effettivamente aperta la porta è aperta a che suoni sono no 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 a no ma è la macchina siamo nell'angolo dell'invincibilità siamo nell'angolo dell'invincibilità a posto a posto a posto turn off the pump remove the tubes and close incision allora siamo questo è il secondo corpo giusto perdiamo del tempo perché stasera mi va così questo è il secondo corpo no abbiamo fatto il marchio due ne abbiamo fatti due come di grazia non mi ricordo un cazzo dobbiamo cercare di fare il finale buono ora molti di voi qui e là qui su twitch e là su youtube mi hanno scritto come fare il gioco ebbene questi commenti io non ho la forza di leggerli quindi più o meno più o meno ho idea di come fare ci serve la cenere dei corpses che troviamo nella fornace e questa poi ci darà il logo il la casata dello demonio alla quale appartiene il nome del demonio che noi dobbiamo esorcizzare e noi questo faremo quindi prima una volta fatto tutti i corpi li cospargiamo di cenere cerchiamo la roba giusta e bla 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 nel mentre però dobbiamo capire individuare come no spoiler dobbiamo individuare qual è il cadavere giusto quale cazzo sarà il cadavere giusto lo scopriremo presto benvenuti nella casa blu osserva i graffi non li ha i graffi continuate a scrivermi di osservare i graffi non ce li ha i graffi quando li avrà lo capirò ti conviene accendere il database per il demonio pensate una conversazione realistica così probabilmente l'ha fatto ilon musk questa conversazione andiamo che ho fatto che cazzo succede che è successo no 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 computer bloccato no si sta avvicinando si sta siamo fottuti perché computer bloccato qual era il codice non mi ricordo più il codice ragazzi qual era il codice qual era il codice ve lo ricordate il codice che è stato moni fulmine ma come uno 457 no che ho schiesto cosa ho combinato a posto ho vinto ho vinto buono ma non vale si mi sembra di aver fottuto qualcosa non so io credo di nonostante sia pieno di jumpscare sto gioco ce la sto facendo a non beccarmeli devo stare molto zitto e molto caldo ma il computer è bloccato ragazzi perché il computer è bloccato cioè mi dice computer locked ma era così anche prima cambia sempre nel cassetto in fondo dietro al tastierino di raimondo come cambia sempre il codice ma no l'altra volta era quello giusto cassetto in fondo tastierino aspetta eccolo qua aspetta 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 651568 651568 651568 651568 651568 non è questo ah no perché è quello del pc sono un cretino 651568 651568 ottimo ottimo vedi tools to combat the demoniac no non è questo aspetta 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 torniamo la home mi ricorda i cari bei vecchi tempi su messenger le prime molesti i segnali del demonio eccoli qua questo è quando accettavi di entrare a far parte di facebook che all'epoca era una setta allora desolazioni invidiosi e immolati e io la dobbiamo trovare ste robe però già due simboli li abbiamo quindi teori e ho chiuso tutto non devo riaprirlo già due simboli li abbiamo quindi teoricamente potremmo già investigare su qual è la casata del demonio c'è sbaglio tasto possiamo anche scoprirlo ora ogni tanto mi parte il fantozzi perdonatemi allora abbiamo cos'è una t con due una t con una doppia t e una n sperando che sia quella giusta sperando che sia quella giusta una t e una n una t e una n la doppia t eccola qui e la n non c'è la doppia t e la n ah potrebbe essere balmet oppure potrebbe essere balmet in sostanza potrebbe essere balmet oppure e sono uscito oppure potrebbe essere aspetta balmet ricordatevelo quindi negli immolati oppure potrebbe essere ma immagino che la prendiamo un po' nel no no e vedi giusto potrebbe essere balmet perché la n non si va a ripetere negli altri ottimo quindi balmet però dobbiamo capire poi a quale casata appartiene lo struns giusto t n t n t n non c'è quindi si che è stato pronto balmet ve lo ricordate ve lo ricordate o no ricordatevelo voi eh balmet perfetto state ancora spendendo punti per il totem di 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 cult of the lamb che è un altro gioco che non stiamo giocando stasera balmet si balmet ottimo quindi ma cosa devo fare bisogna rimuovere i tubi rimuoviamo i tubi e chi ci vuole ci penso io voilà 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 easy poi che perché questo è aperto chiudi chiudi buono così poi poi eh il sacchettino da riempire magari chiudiamo sta minchia mi importa ciro piano ciro piano ok piano 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 perfetto perfetto ma basta ma basta è lui è lui o non è lui ma certo che è lui quanti eventi stasera no 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 risata isterica ma vava un culo No Avete visto ragazzi Quella si che era una sfilata di moda di intimo Che è cà? Dove è cà? Ehi Ehi Hanno spento le luci di nuovo? Che cazzo sta succedendo ragazzi? Non mi piace Non mi piace per niente Ha spento le luci di nuovo? Mi sto leggermente cagando Basta? E io vado di qua Permesso? 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 Sera Che succede? Che sta succedendo? Sei incazzato? Balmett Balmett Oh madonna no no Dov'è la luce? Perché faccio 360? Non si fa... No 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 Ascendi ascendi accendi accendi Via Posto Giocato da ProGamer Non è successo nulla Ora detto ciò Era lui il nemico? Ma si ragazzi questo è un posto sicuro Qua non può succederci niente Ok bisogna riempire il sacchetto vuoto Ma l'abbiamo fatto Ah dobbiamo fare il fluido col polare Corpo Non riesco Allora con calma ragazzi Fatemi bere un sorsino d'acqua Mi mette sete sta roba Infilo eh Entro dentro Ok ci siamo Ottimo Non Ok sento qualcosa Attenzione Credo E' maschio Cioè non voglio mica di certo Presupporre il sesso di un bambino Nel 2022 Però sai com'è Chiudi le porte No Che suoni sono? Quando ti frughi nel naso E poi trovi Tesoro No 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 basta Sto cazzo Ah ma l'abbiamo già fatta Sto cagata Rebecca Ce la facciamo Tranquilli Perché rispondo Eh che suona Cosa si è mosso Cosa Rebecca Sì ora devo andare in bagno Ragazzi lo so Bene Che vuoi che succeda Che vuoi che Che vuoi che succeda No Stavo Ho commesso l'errore fatidico Ragazzi Mettere la lingua tra i denti Nel mentre che si percorre un corridoio In un gioco horror Questo significa Serrare il mascelle per il jumpscare E perdere la lingua E' così che mio cugino Ora è muto No 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 Basta Stasera mi sto cacando E niente S'affoga I mali sempre più peggiori Dalla padella alla brace Un po' sott'olio Male non fa Hello Ma sì L'abbiamo già fatta Sta cagata ragazzi Mi rifala di nuovo Ma porca puttana Shish Tanto non ci sono più I sottotitoli Sì sì Appena posso Completo il sigillo L'ho capito L'ho capito L'ho capito Grazie Che sta succedendo Ah sì Rivediamo sta scena bellissima Rebecca Rebecca Dove sei? Ci ha trovati Ci ha trovati Il nostro salvatore Rosso e azzurro Rosso e azzurro Attenzione però Qualcosa può succedere Il simpatico ragazzo Si è dimenticato Di aver fatto Un piccolo spuntino A base di banane E le bucce di banane Le ha Ecco Lasciate lì Attenzione Attenzione Guardate Attenzione guardate Il mio riflesso Il mio riflesso Siamo ingrassati Ma se io spengo la luce Non posso Purtroppo non posso Quindi Ah già Il cleaner lì Prima che mi venisse Un leggero Soffio cardiaco Eccolo qua Cleaner base Allora ci servono Altri due simboli Mmm Bonnie piano Ok 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 Corridoio passato Ci servono Altri due simboli Prima puliamo La macchinetta Ok E poi con calma Eccolo qua Lo usiamo? Che dite? Ci proviamo? E mentre che aspettiamo Che lì si pulisca? Vediamo un po' Oh demonio Qui bello Qui Che è successo? Si è spento? Si è offeso? Però Allora? Dove cazzo sta? Bagno Pronto? Sera Ah guarda che non si accende però Siamo Siamo Dei vampiri Ehm Ui Qua sopra giusto? Qua sotto Eccolo qua L'altro simbolo è Una L Che cazzo è? Non riesco a capire Maledetta pioggia Mi è venuto Un imprinting Di urinare Di evacuare Chi è? Ragazzi Green Eyes Per i 5 mesi L'Utbal Hull Quindi abbiamo Un altro Che sto facendo? Abbiamo un altro Robo da piazzare Che dovrebbe essere Questo qua Ne vero? Buono Adesso Se noi andiamo intuito Senza usare l'altro L'altro foglietto Teoricamente Possiamo capire Quale demonio è Perché abbiamo già Tre segni ragazzi Voglio dire Quindi Bennet Era quello di qua Immolazione Balmet Vedete? Quindi l'altro è questo qua Per forza Giusto? Ma è un genio E sono anche bello E questo qua? Balmet Tra l'altro Però vabbè Quindi mettiamoci Questo qua No Credo che abbia capito Che ho capito Posto? Tutto bene? Bene Ci siamo? Posso? Mi permette? Oddio Possiamo andare avanti? Fatemi rivedere Come devo mettere Allora la T sopra Il cerchio a destra La N sotto E la L di là Allora il cerchio era qui La N va sotto È un po' un casino Ma si può fare Si può fare Questo Ma il problema è che Non posso invertirli Non ho mai capito Perché sta stronzata Devo fare tutto un giro Del cazzo Di robe La T dov'era? Mi sono già dimenticato La T dov'era? Dov'è che era la T? Doppia T sopra? Ok Ma era già qua La N dov'era? La N era sotto? Vedete che la mia memoria Come funziona? La N? La N era? Sotto? Sotto la N Quindi la N Qua E che sto combinando? Qua Ok Questo La L dov'era? Qua E questo era qua Ho vinto Spavento Zitti Giusto Fatto A posto E Marco ce l'abbiamo Dobbiamo applicare il Monsterizer E ci siamo quasi Poi dobbiamo trovare il corpo incriminato Per trovare il corpo incriminato Però ci sono delle robe che dobbiamo fare E che cazzo E che cazzo Allora Dobbiamo buttare giù qualcosa Via sta cacata Ma aspetta Ma se io il marchio lo metto giù momentaneamente Forse è meglio No? Non posso mettere giù il marchio? L'ha messo giù? E qua? E' già compilato? Ok perfetto Lo sappiamo su dopo Dai Dov'è? Eccola qui Ah 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 Palla su Perfetto Prendi il Monsterizer Via Bonnie Fermi Simpatici Bentornato 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 Si partono Figa non posso Non posso parlare Chi è che bussano a quest'ora del mattino? Chi sarà mai? Che viso rilassato Che spavento No E iniziamo Questa stronzata Ancora Ma basta Allora Ecco ad esempio Vedi bussa su di lui Sarà lui E' lui per forza Ci metto sopra il marchio E scopro che è il demonio Giusto? Ah 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 Sarà lui Lo stronzo No? E' lui Perché E tra l'altro Dovrebbe essere Lo stesso tizio Che abbiamo visto prima Che era in T-Pose Che c'è corsa addosso Facendo quella specie di Tuka Tuka Non so se vi ricordate ragazzi Ma la bocca era aperta? Si E' vero però Io l'avevo chiusa Va beh Si stava facendo Grasse grosse risate Un bel sorriso Prendi il marchio Girati piano Molto lentamente E prosegui Per quella che è la tua crociata Calmo 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 Lì c'è il tuo obiettivo 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 Non succederà Niente Non succederà Niente Non posso usarlo qui Sto un po' Diventando Idrofobo Andiamo a riportare il corpo indietro Ah da Devo tirarlo giù dal lettino Prima E' vero Perché lei non è in grado Altrimenti Di posizionare un marchio Sopra un corpo Inermi Esanime Esamine Esanime Esa Non ce la faccio stasera ragazzi Buono Così guardami nelle palle degli occhi Perfetto Ah che testo blung Perfetto Buono Eh Oh Così Ho sentito un suono Non ce la faccio Non ce la faccio Ediwood Oh Oh Perfetto Stacca qua Ciao palà E' semplice suono della pioggia Vedete che si muove Sì perché è il demonio È palese Questo fai così Questo fai cosà Ma non compaiono Non lo so Non lo so Non lo so Signor diavolo Non lo so Cosa facciamo Ci mettiamo sopra la La roba Le ceneri Le ceneri Ecco cosa mi sono dimenticato Chi è questa cazza di porta Che non mi fido Ok il corpo è ancora lì Positivo Cioè potrebbe scappare dalla porta Andarsene via Ci mettiamo sulle ceneri E applichiamo le ceneri Sul corpo Perfetto E mo Che cazzo dovrebbe succedere adesso Non doveva bruciare Riapplichiamo il marchio Ma non è lui Ah il fiammifero L'accendito Ah porca puttana è vero Il fiammifero bravo No ce l'ho Ce l'ho Non ce l'ho Adesso sa il gioco dove sto andando Il gioco adesso mi incuna Ma io vado dall'altra parte Ho vinto Brucia il foglietto Ancora questo cazzo di foglietto Ma vi piace proprio Avevo un impedimento I fiammiferi Sì sì I fiammiferi Cioè ho un forno lì a fianco Però a quanto pare Le cose si fanno per bene Minchia signori Pensavo di trovarmi qualcuno Seduto sulla sedia No 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 Me ne vado Me ne vado Avantculo Aha Ok C'è Che casata è È un'arpa È il simbolo dell'euro Da qui Però da sotto È l'arpa Della Guinness Perfetto È uno sbronzo Era un ex alcolista Ok ci siamo ragazzi Quindi teoricamente adesso Con tutta la calma del mondo Io di là non passo Vaffanculo Andiamo a vedere se la casata È quella giusta L'arpa 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 Sì è questo È l'immolazione Balmett Perfetto Abbiamo fatto tutto E bruciamolo vivo Ci siamo Vivo Morto Ma che due coglioni Signora Mi lasci lavorare In pa... No 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 Non mi sei mancata Stai buona lì eh Non mi interessa Che bel regalo Cos'è? La collezione? Va bene Perché no Dai Tanto ne ho due Va bene Stai buona lì eh Complimenti Le sessioni di yoga Vedo che stanno funzionando Stai là No 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 E io guardo per terra Io guardo per terra Grazie Grazie Buon Halloween Sì In privato però è un'altra persona È molto più simpatica È più buona Che devo fare? Ah sì Bruciamolo vivo Giusto Aspetta Aspetta Ok A posto Abbiamo fatto forse Il finale buono? Eh? Prova ad andare su altri cadavere È uscito qualche altro simolo È troppo tardi Attenzione ragazzi Ci mettiamo qua In preghiera Sento che ce la stiamo facendo Sento che è Il cadavere giusto Oddio no Continuiamo a sbagliare Qualcosa non va È lo stesso finale È lo stesso finale Allora Ma scusatemi Io ho messo Ho trovato la cenere Abbiamo acceso la cenere C'era il marchio Della casata di Balmett Ho messo sopra il marchio Di Balmett Il corpo era quello lì Indemoniato Che quale cazzo era allora? Ok però aspetta Forse Mi sembra diverso il dialog Aspetta È il finale buono Ce l'abbiamo fatta? Vabbè insomma È sempre positivo Il ragazzo Che lavoro fai? Beh trucco i morti Esorcizzo il diavolo L'animazione è uguale Ma il doppiaggio è diverso Beh ragazzi Dai adesso Non rompiamo il cuglione Quindi questo è il finale buono Cioè sparla ma me ne sbatto il cazzo Di quello che sta dicendo Perché tanto Ok avevo una scelta Vediamo quale scelta Bene Poteva scappare E spendere i suoi giorni Nella paura Oppure affrontare La cosa di faccia E cercare di Tenere le robe Normali Insomma Sotto Sotto Eh Ragazzi il finale buono Però immagino Che il diavolo Sia lui Ah c'è il finale buono È che ci danno un aumento Il finale buono Sarebbe che mi licenzio Teoricamente Ottimo Puoi tagliare breve Dovrei andare in bagno Cinque secondi veloci Va bene Spero tu possa tornare Beh Indovinate un po' Indovinate un po' Ok Completato il coso Demoni esorcizzati Uno Ce l'abbiamo fatta Abbiamo esorcizzato Un demone Posso aggiungere questo Nel mio curriculum Ottimo E me E adesso Due finali li abbiamo fatti Ma gli altri Quali cazzo sono Siamo stati Impossessati due volte E quello è il finale cattivo Quello al centro Abbiamo Cosato un demone E questo è il primo finale Però non so Quali siano gli altri Manca il secondo finale Buono Ma perché Tutto deve essere Così complicato Le cose O vanno bene O vanno male Non è che c'è Una via di mezzo Ragazzi Questa è la verità Nella cantina C'è un finale Ah possibile Dovrei liberare L'asciura Cerca nei cassetti A casa Cosa Che cercano I cassetti A casa Manca il secondo Quarto e quinto Grazie Fila Cristo Prova a guardare Gli achievement su steam Adesso lo facciamo Ragazzi Datemi al volo Una pausa Pipi E torno subito Perché a quanto pare Il gioco ha centrato Il suo obiettivo E riuscito Nella sua Missione Arrivo eh La nonna Ci aveva dato Un crocefisso A inizio Ah è vero Eh sì Allora Quell'altro Sarà il finale di storia Eh ma capito Ma la storia Io non lo so Ah 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 Vado Arrivo subito Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 E' stato tirarli sotto. Dopo ho ragionato e per fortuna abbiamo evitato il... come dire... l'incidente, il delirio. L'inizio della fine. Sembrava io sono leggenda, mancava che piangessero sangue ragazzi, però c'eravamo qua. Cristo, Zumbat, grazie mille per i quattro mesi, rotto valhalla, sappi che in questa pausa pipì non mi sono lavato le mani. Allora facciamo il quarto shift. Appena inizi nell'appartamento, nel penultimo cassetto in basta a destra, più specifica per favore, dentro ad una scatola ci sono una catenella e le monete della sobrietà. Facciamolo. Qui c'è la nonna, vedo dietro la nonna, vedo dietro la nonna non c'è scritto niente. Mobile marrone, ottimo. Uno, due, tre, quattro. Qual è? Siamo molto calmi. Sotto la tv, ottimo. Questo? Questo? No. Questo non è, questo non è. Ragazzi non c'è, siete dei bugiardi. Che spavento, mamma mia. Grazie Daxin per l'uno. Ah qua, ma va a cacare. Dieci anni di sobrietà, ma aspetta, c'è dell'altro. Cinque anni di sobrietà e... Un crocefis. Il colare di mio padre, il colare, sì. Ti amo padre. Abbastanza inquietante. Non esiste il ti voglio bene in inglese, esiste il ti amo direttamente. Mi ha sempre dato fastidio sta roba. Ci deve essere una via di mezzo. Kiwi, grazie mille. Rut Valhalla. Andiamocene. Adesso che ce l'ho, che cazzo devo fare? Una delle monete è del padre. Grazie per lo spoiler. The mighty, grazie mille. Per i due mesi, Rut Valhalla. Si esce. Ci siamo. Ed è notte, ovviamente, perché iniziale di giorno è da stronzi. Ma, secondo voi, continua la storia? Cioè, dopo l'altro turno? Teoricamente sì. Questo ci appiamolo su, così possiamo sentire stavolta le registrazioni. Che prima me ne sono abbastanza sbattuto. Dobbiamo firmare qualcosa. No, dobbiamo prendere il taccuino. Dov'è il taccuino? Ah, è di là il taccuino. Vediamo se c'è altra roba da raccogliere. Sicuramente possiamo già iniziare a fare quelle cacate del... Le chiavi, eccetera. Potremmo già iniziare a farle. Eccoci qua, che bello, che bello. I fiammiferi, i fiammiferi. Esatto, esatto, i fiammiferi, i fiammiferi. Ottimo. Abbiamo già l'inventario pieno? No. Ma le robe... Ah, quindi le monete e il collare non ce lo contano nell'invent... Porca troia, ho detto, ecco, vedi? Si è alzato e ha camminato. Lazzaro. Porca troia. Dio buono. Permesso. Buono. Perchè è acceso il cassetto? Ah. Ok. E perchè sono qua le robe che abbiamo preso? Allora, vediamo un attimino il codice nuovo. 863040 863040 863040 863040 No. 863040 863040 863040 Qualcuno ha Fatto un suono. Qualcuno ha fatto... Chi è stato? Ragazzi, siamo appena entrati, non c'è ancora il corpo e già partono con... E non va bene. Ma la porta qua non era aperta. Chiudi la porta, va. È solo una natura. Ok. Eccoci. Eccoci. Ci serve la vecchia... Ci servono le... 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 Le chiavi. Le chiavi sono qua. Le chiavi sono qua. Le chiavi sono qua. Prima di iniziare a fare la cazzata dei corpi, io inizierei a levarci dalle scatole tutto quello che... Eccolo, eccolo, eccolo. Questo le posso prendere su? No? Queste sono le extra key. Inizierei a sapare su. Ottimo. Tutto ciò che ci serve per... Ecco, insomma. Il codice qual'era? Il codice del tastierino, che era sempre lo stesso. Nel tastierino c'è la chiave che ci serve poi. Dove cazzo lo trovavo? Mi ricordo che c'era un codice lì da prendere. Cazzo, ragazzi, non me lo ricordo più. Eh, 19, 7, 0, 4, 4. Bravi, l'avevamo trovato. L'avevamo scoperto l'altra volta. 19, 7, 0, 0, 7. 7, 0. E poi? 0. No, che se... Bene, bene, bene. 19, 7, 0, 4, 4. Quale cazzo è il codice? 19, 7, 0, 4, 4. Siete debbussati. 19, 7, 0, 4, 4. No. A posto. Easy. Ok, fuori dalle palle. I corpi manco li tocchiamo, manco li caghiamo. Cristo. Andiamo direttamente a fare quello per cui siamo qua. No, non credo sia cambiato, ragazzi. Perché quello è di trama. Solo che non mi ricordo dov'è che l'abbiamo trovato. Ah, è durante una delle nostre visioni. Era scritto forse dietro a una fotografia che abbiamo trovato. Non vorrei dire cagata. Però, non mi ricordo. Akki. Voilà. E' chi c'è? Poi, old key. Dov'è? Dov'è? Eccola qui la signorina. Valerie? Ma... Ma è diversa. Blah, blah, blah. Un po' lunatica la ragazza. E' sempre lei? Buona sera. Buono. Vabbè, me l'abbiamo già vista sta roba, quindi... Sì, lo che ciù, lo che ciù, lo che ciù. Anna Chia, grazie mille. Ma io la libererei, la signorina. Orca! Ma ti devi dare una calmata. Ma possiamo liberarla, secondo voi? Sì, vi siete innamorati di una luna forte e indipendente. Sì, sì, di solito. Quindi... Non fare minchiate, Dino. Beh, ma perché no, ragazzi? Ma è reale? E' un videogioco, quindi... Direi ovviamente sì. Liberala. Eh, la vorrei liberare, ragazzi. Francamente, sono curioso. Ci sarà un altro finale dove la liberiamo. Come la liberiamo? Prendo quella palla. Prendo il badile. Ci penso io. Non posso prendere il badile. Non posso pensarci io. Non l'aprirei. Con la extra key non si può prendere la extra key. Però ci proviamo. Non potevo prenderle le extra key. Non puoi liberarla? Come non posso liberarla? I simboli sul disco. Ancora. Che c'entra? Dai fuoco a tutto. Va bene. Avete delle ottime idee. Allora, possiamo iniziare a fare il turno. Anche se ho zero voglia di lavorare stasera. Quindi facciamo un bel party. Io non ho aperto quelle porte. Ah no, sì, le ho aperte io. È vero. È vero. Le ho aperte proprio io. Secondo voi? Funziona già sta roba? Ah, perché è qua questo? Eh, no, 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 no. Vai giù. Drop. Me l'ha droppato per terra. Sì, l'ho caccato giù. Perfetto, ottimo. Le cassette. Ma non ci ho voglia di ascoltarle, ragazzi. Dura mezzo minuto. Sulla barra c'è? Un disco? Veramente? C'era un disco sulla barra? Dino il computer. Cosa? Che c'è? Che volete da me? Sto cliccando roba. Bene, qualcuno è entrato. Vado a vedere chi è. Devo andare a riceverlo. Perdonatemi, eh. La porta è chiusa. È educato, quindi, il mostro. Secondo te chi è? Ma è lei. Lei è la moglie di lui. È palese. Quella donna è la moglie. Madonna santa. E che... Madonna, che brutta cosa. Questi portergast. Non mi piace. Non mi piace per niente. Vabbè, ragazzi. Andiamo a ciappare sui corpi, va. È caduto... Ah no, mi serve questo, è vero. Voilà. Quando esce l'avvicinazione di sono i corridoi devi mettere una moneta nella mano della donna e... Ah, giustamente. Perché mi chiedeva effettivamente qualcosa. Io cos'è che gli davo prima? Due ceffoni? Allora, abbiamo... Lavon Ciamaccio. Andiamo con Ciamaccio. Oddio, da questo cognome e da quel nome mi sarei immaginato qualsiasi... qualsiasi... Altre forme. Ecco. Ciamaccio, venga con me, signorina. Ah, che abbetta, eh. Ma la prova costume l'abbiamo superata. Almeno quello. È morta in linea. Con l'immaginario collettivo. Ah, sorridono. A me quello che mi preoccupa è che sorridono questi cadavere. Voilà. Ciamaccio. Chiudo qui. Signorina Ciamaccio. Perfetto. Ottimo. Partiamo? Guardate il maestro. All'opera. Levon, lavon, non so, c'è il nome di un rossetto. Partiamo, allora. Vediamo com'è conciata. La faccia presenta delle rughe. È la faccia di un morto, non è che c'è tanto da fare. Non vedo niente sulla faccia. Sul corpo abbiamo un neo a forma di cuore. Complimenti. Particolare. C'è un cazzo immacolata sta donna. Uno di tre. Ma insomma. La vedo dura. C'è i piedi blu. Va con i piedi blu come disease, come malattia. Un altro neo. Un'altra bruciatura di sigarette. No, no, no. No, 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 no. No, no. Che è stato? Che è stato? La schiena. Torniamo la schiena. C'è un altro neo. Devo andare dall'altra parte, che due coglioni. Come si è girata a scatti la signorina. Ah, posto. Abbiamo vinto. Poi. Computer. Record system. C'è Macio. 25. C'è un brufolo sulla spalla. C'è un brufolo sulla mano. C'è un brufolo sull'altra mano. E ci siamo. Buono. Buono. Post. 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 Veloce. Veloce. Come è lei? Dino i post-it. Ecco, ma avete continuato. Ecco. Eh, ottimo. Continuate a scrivermi sta roba dei post-it. Dove cazzo sono questi post-it? Allora, quando avvengono queste cose sovranaturali, dovresti disegnare sul taccuino in alto a sinistra l'evento. Sul taccuino in alto a sinistra. Ah, qua? E come funziona? Beh, è un esperto, mi dicono. E come funziona, ragazzi? Ma c'è l'otto. Ah, il taccuino lo devo andare a prendere. Ah, questo qua. Ma io non l'ho mai preso, ragazzi. Me ne sono sempre sbattuto. Cioè, il gioco mi diceva prendi sul taccuino. E quindi adesso lo segno. E beh. Forse devo segnalarlo proprio su. Ma quando ho le cose, come si chiama? I flash gialli? O quando vedo qualcosa di paranormale? Sì, la risposta è sì. Ottimo. Durante gli acidi? Ottimo, ok. Se non ero durante gli acidi. Quindi il primo acido ce lo siamo bruciati. Direi che la cosa migliore è ridrogarsi ancora. Segna sul taccuino. L'ho già fatto, ragazzi. L'ho già fatto, l'ho già fatto. L'ho già fatto. Che gioco è questo? No. No, 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 no. Mi ha respirato qualcosa sul collo. Che fastidio. Perché c'è l'audio posizionabile? Che devo fare, mo? A posto. A posto. Ma non dovrei iniziare. Scusami. Ma è l'astro. Ah, già, devo riportare che è deficiente. Devo riportare il taccuino e il referto indietro. Non mi ero completamente dimenticato di che cazzo dovessi fare. Vai a vedere il sigillo sulla barra della tipa in cantina. Il sigillo sulla barra della tipa in cantina. Andiamo a vedere. E andiamo a vedere. Una cosa alla volta, dai. Vediamo di fare il finale buono della storia buona. C'era un sigillo, ma come ne sono accorto, ragazzi. Perdonatemi. Bravi, che voi avete un'ottima vista. E un'ottima conoscenza del gioco dal momento in cui. Probabilmente l'avete. Ho già giocato. Ho già visto, non lo so. Sabe, sono tornato. Sigillo sulla che? Di dove? Questo. Ah, ok. Sono 3T e un 5 lungo. Bene. E quindi? 3T e un 5 lungo. Dovevo cercare il demone a cui appartiene. È una sedia. È solo una sedia. È solo una sedia. È solo una sedia. Prova a rimuovere il sigillo della barra. Non potevo farlo, ragazzi. Mi sono avvicinato, ma non mi dava niente. Perché 5 lungo? Ma non è un 9? No, è un 5 lungo. Perché adesso ve lo faccio. Adesso io, questa cosa qua. No. Questa roba. Fermi. Non andiamo avanti. Questa roba dobbiamo risolverla. Perché mi avete rotto il cazzo. Questa strada è 5 lungo. È un 5 lungo, ragazzi. Questo è un 5 lungo. Non è un 9. Non è una Q. Non è un 9. È un 5 lungo. È un 5. Lo vedi? Immaginate un 5. Allunga la lineetta sopra. Perfetto. È un 5 lungo. Gira lo contrario. È un 5 lungo. Basta. 3T di sopra. Sì. 5 lungo in basso. Ottimo. Perché leggo storto? Non leggo storto. Io leggo giusto. È un 9. È un 5 lungo. È un 5 lungo. Basta. È un 5 al contrario. Sì. È un 5 disteso. È palesemente un 5 lungo, ragazzi. Palesemente un 5 lungo. E ho un 6 corto. Giusto? Nel mentre noi non stiamo avven... Qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato. Perché è tutto aperto? Ok. Qualcosa è cambiato. Ah no. Questo l'ho aperto io. È ok. Questi non ho aperto io. Oh. Ordine. Buono. Mene. Iniziamo a operare. La fastite. Il pennello. Artista. Oh Cristo. No. 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 Come faccio a buttare giù sta roba? Non posso buttare giù sta roba. Ah sì. I fiammiferi li posso droppare giù. Vabbè. Allora niente. Me lo tengo in tasca. Eh. Però mi serviranno... No. Vabbè. Credo di poter... Fanculo. Ok. Per... Oh. Perfetto. Perfetto. C'è una roba alla volta ragazzi. Così mi costringono a muovere la telecamera più volte e ovviamente ad essere più soggetto ai jamsca. Eh non ho la IECAP. Così. A gambero. Perfetto. La IECAP dove sta? Qua. No. Ciapalo su. Che braccia lunghe che ho. Complimenti. Ok. Uno. Due. Voilà. Voilà. Apostolo. Buono. Bene. Allora. Già che ci siamo controlliamo quale minchia di demone è quello. TT e 5 lungo. Però il TT e 5 lungo secondo me non esiste. Perché TT e 5 lungo l'ho mai visto. E sono uscito dal PC. Un errore abbastanza comune. Un po' come quando cerco di cucinare la frittata e stranamente mi esce fuori un toast. Eh non c'è il TT e 5 lungo. Bugiardi. Bugiardi. Il sigillo sulla barra del demone sicuro serve a qualcosa. Quello sì però non c'è qui ragazzi. Andiamo a vedere se magari è scritto da qualche altra parte. No qui mi dice come identificarli. Qua mi dice. Cosa mi dice? I sigilli. Esatto. Qua mi spi... Eh si sta alzando la signorina. No. Sta giù. Cretina. Che poi ti scoprono. Ha bisogno delle mie cure. Era ovviamente uno scherzo. Era un effetto ottico. Io non mi avvicino più, vero? Temo sia morta. Ok. Bello dover far finta. Tu? Beh comunque ragazzi aver fatto un finale, l'altro finale già mi aggrada. Ce la stiamo facendo. Ma se io facessi lo stesso stemma? TTTTT? Beh ma non ho abbastanza TT. Aspetta forse però nel semi interrato giù ci sono altre robe intagliate nel legno. Altre di quei tessite tastierini, di quei tasselli. Forse possiamo trovare altre T. Ah taccuino, taccuino. Bravi. Come cazzo funziona? Beh ma non va. Ma non è... Aspetta ma non era una... Non era quel momento giallo. Il momento giallo di Picasso. Non era quello. Stavi prendendo troppo tempo e il PC sentiva la mancanza delle tue cure. Giusto? Comunque dicevo, secondo me è il piano di sotto. Possiamo trovare altro di quella roba lì, no? Ok, ancora giù per terra. Se mi tocca io veramente la recido. Metanolo. Dov'è metanolo? Qua metanolo. Eila. Grazie per l'uno però stavolta non ci sono cascato. Più o meno. E che ho il culo talmente cementato ragazzi. Ok. 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 Ah! Guarda giù, guarda giù. Non guardare, non guardare. Guarda giù. Eccoci. Che faccio? Lo segno sul tèquino? Non va. Tutto bene? Ah! Shhh! ! Ah! 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 ho vinto segniamolo sul taccuino io pensavo che sul taccuino segnassi cose serie che cazzo è sta roba ragazzi è forse lo schizzo di un marchio completo ho visto l'ombra ho visto l'ombra con la coda dell'occhio ti dice la casata ogni volta che vediamo qualcosa di paranormale lei compila sempre di più ah ho capito ok beh di certo non ha fatto scuola dell'arte buono make an incision in the catarotid at the artery and you guard vein with scalpel e chi ci vuole andiamo con scalpel ehi chilo qua e via poi dovremmo avere già le no non ce le abbiamo perfetto perfetto io non avrò paura ok questo ottimo e mi serve anche il tubo questa qua ottimo eh no ottimo perfetto io ragazzi da un po' che non vediamo lo sto per dire il tizio completamente ricoperto di yogurt quello bianco ve lo ricordate e da un po' che non lo vediamo allora dove cazzo sono le arterie eccolo qui buono e facciamo partire il robot quello lì è la cosa più inquietante del gioco che mi mette paura di questo gioco è l'ansia di trovare lui vi giuro è la cosa più inquietante del gioco perché non fa non è come il solito jumpscare te lo mettono a bordo un schermo e mi mette i brividi e mi mette i brividi è dietro di me però basta la donna è drenata l'ho drenata completamente no manca ancora un po' eh non l'ho drenata bene è andata che è successo? che è successo? ho sentito un suono ma non l'ho visto nessuno c'era qualcosa? c'era qualcuno? ho saltato un jumpscare? che culo! ottimo eh mi sa che c'era un jumpscare ragazzi mi ha raccontato nella visuale ma non l'ho visto forse fuori dalla finestra c'era una faccia il pc di no? cosa? cosa cazzo c'è da sto pc ragazzi? tra l'altro vedete no allora allora si dobbiamo fare sta roba solo e soltanto quando vediamo delle cazzine e quando abbiamo del di quegli eventi gialli lì era il pc a rumore? ma no 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 è diversissimo ragazzi non era il rumore del pc no assolutamente no era il suono di quando vedi un'ombra o robe del genere probabilmente era l'ombra che ho visto prima l'altra volta era comparso alla finestra non l'avevi notato eh allora si era lì ragazzi probabilmente era qua non l'ho visto ma andiamo a vedere qualcosa mi ha grattato i timpani io non voglio mai più rifarlo poi dobbiamo ci serve il sacchettino a po' come se ne ho già uno oh e via a posto bel piercing e ci siamo il desktop è cambiato? no ma ce l'avete questo cazzo di computer ragazzi è sempre quello il pc per capire quanto ti manca la possessione ah perché quando completa tutto quanto quindi io devo devo eh ma che cazzo è molto più complesso del previsto il gioco perciò ogni volta che vediamo un evento paranormale siamo sempre più vicini alla possessione del demone e noi dobbiamo cercare di esorcizzare il demone prima ancora che si completi tutto quanto lo stem giusto sul taccuino cazzo però che figata di gameplay non pensavo fosse così stratificato ragazzi cioè sicuramente se avessi ascoltato uno due tre audio di quattro ore probabilmente saremmo riusciti cioè l'avrei capito però sai com'è non c'ho voglia meno male che ci siete voi meno male che ci siete voi qua c'è qualcosa no una spillatrice è l'arma definitiva spigliamoli tutti sti demoni ah la tin cantina vedi se c'è giusto andiamo ho sbattuto il mignolo perdonatemi ho fatto malissimo lo segniamo lo segniamo sotto a qui no eh tra l'altro non ci sono eventi paranormali fuori perché? perché non si vede un cazzo signorina buonasera allora c'è una ticola vedete? l'ha scolpita uh ah qua ci sono altri di sti robin non si vede un cazzo non si vede buonasera un giorno so che non troveremo più sto affare qua dentro ne sono abbastanza sicuro ah qui non si può più chiudere qui non mi ci posso infilare e niente solo quando lo schermo giallo devi scrivere sul taccuino perfetto ottimo adesso lo so calmi vabbè qua ragazzi non possiamo prendere nulla a parte aprire questa roba qua e capire che venivano stampati venivano infornati probabilmente sono fatti di creta di qualche materiale argilloso ottimo l'argilla non puoi perdere con voi al vostro fianco con voi al vostro fianco con voi al vostro fianco si posso perdere da solo forse no quando appare nel corridoio dovresti l'ho letto l'ho letto devo dargli la moneta me l'avete già detto si appare si si appare ma quanto succederà che passo di qua e me lo trovo qua nascosto quando accadrà ragazzi perché accadrà perché succederà prima o poi ma tutto aperto in questo momento allora cos'altro dobbiamo fare comunque no lo sfondo è sempre quello ragazzi oddio si no è sempre quello deve essere la strada la meravigliosa vista che abbiamo per arrivare fin qua allora ah già devo andare in bagno a sapere le robe ottimo devo tornare da dove siamo venuti e io non ho voglia c'era qualcosa non ho visto io non mi giro io non mi giro non intendo girarmi ho vinto ci siamo zitti non mi giro no 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 allora hanno bussato ma alla finestra perché non c'è la porta chiusa chiudi 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 pulisi 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 perché non pulisci no dimmi che è un evento ti prego no non dirmi che è un evento cos'è che manca cos'è che manca l'ho preso il tank l'ho riempito il tank è pre è pieno il tank ah il cretino non l'ho aperto sono deficiente non avevo aperto oh oddio ho scambiato i libri per delle gambe e qui e qui si vede la passione per la lettura evidentemente sono deficiente si si devo aprire l'ho sbagliato l'ho sbagliato quindi invece sta roba qua non ci serve ci serve per l'altro finale questo giusto il foglietto da bruciare brucia i foglietti ma adesso ma questi cazzo di foglietti ma l'abbiamo già fatto perciò ha aperto la finestra no Dino il vaso rosso di guardia alla porta si devi finire il gioco vincendo grazie mille vabbè una T mettiamo la T mi sono un po' spaventato ammetto che mi sono un pelo spaventato è a posto la tizia applichiamo il mosturizer e via a posto eccolo eccolo aspetta aspetta ok momento rincoglionito perfetto sta venendo fuori qualcos'altro il cerchio sta diventando più simile al cerchio lei sta riacquistando l'utilizzo nelle mani mosturizziamogli la faccia è proprio un mostro in questo momento ok adesso una bella mostra e poi riportiamo il corpo il freddo corpo al freddo storage e via prima o poi si alzerà i segni dopo devi metterli dentro ottimo dove mi trovo che fatica stasera voilà stacca 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 ottimo così cos'ha e la signora ciocio è andata poi chi altro c'è frederick lang chi sarà mai alto e magro via andiamo con frederick lang signor frederick ma è sempre lui sta vedete che ride no ragazzi io non ce la faccio guardate 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 cosa no si è spenta la luce no si è spenta la luce io immano un corpo no no non va bene non posso difendermi no 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 stiamo forse per avere un jumpscare tenete serrate le mascelle che cazzo è un tunnel dell'amore mi ha fatto un caricamento strano è la porta mi si è chiusa alle spalle oh c'è qualcuno c'è qualcuno lì è la porta chi cazzo oddio guarda guarda e quando sono così i jumpscare che mi danno fastidio cioè jumpscare è questo che mi da più fastidio dei jumpscare ragazzi le robe nascoste lì va beh mo ma lo segno no non devo segnare l'ho segnato non l'ho segnato e adesso io bruciamo un altro foglietto vediamo un po' ce l'ho si ce l'ho bruciamolo dai tanto non cazzo da fare ho aperto la porta ed è partito un tuono e in mano io ho un foglietto per esorcizzare il demonio cosa mai potrebbe andare storto ah e la luce è anche spenta e via a posto shh puttana vacca bastarda dov'è qua dietro la l col puntino la l col puntino la l col puntino ma aspetta ma non sono gli stessi smarchi gli stessi smarchi non sono gli stessi smarchi del marchio che c'è giù della signorina dal demonio madre ma c'è questo mettiamo qua intanto poi li sistemiamo eeeh e mo e me chiudi la porta ma basta sta porta sono sempre gli stessi più o meno più o meno dipende non lo so non sto andando avanti ah si devo riportare ah no 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 devo esaminare allora si chiudiamo la porta perchè io con questo qua che ride porca di quella miseria ma perchè ride mmm io penso che Andrea morirà così col sorriso in faccia sempre allegro sarà disturbante qua abbiamo qualcosa dei brufoli e delle punture sulla cotenna sulla schiena abbiamo altra roba questo se la continua a ridere ragazzi non so che problemi abbia there we go minchia no 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 questo qua si anima questo qua si questo qua si sveglia questo qua fa roba io non mi fido di lui non mi voglio fidare allora frederick lang lang federico polmone età 51 si riportava benissimo rush alla spalla destra alla spalla sinistra abbiamo un blemishes e al braccio alla gamba eh un altro blemishes sammi ho sbagliato ah la contusione alla gamba sinistra ho sbagliato gamba gamba qua via a posto che ho forse vinto sarà lui perché ride c'è uno muore felice ed è il demonio non ce la faccio più non ce la faccio segniamolo non lo posso segnare io sta roba non la faccio più non vado lì tanto so che questo mi corre in faccia tutto elegante attenzione ragazzi per la collezione autunno-inverno si comunque è lui collezione intima autunno-inverno uomo se le donne non vengono da te vai tu dalle donne che cazzo era? che cazzo è stato ragazzi? ma che è stato? da dietro? ma cos'era? non ho capito perché sto tornando là? madonna santa questa porta deve stare aperta perché mi dà sicurezza perché se si spengono le luci vedo ma cos'è stato ragazzi? dovevo girarmi? e me lo trovavo dietro? e ci sono camminato addosso fate voi è o non è una strategia vincente? come facciamo ragazzi? mi sono cagato sotto io no io no vabbè dai mettiamo giù la cartelletta e immagino che dato che sono le 23 sono le 23? no manca si manca un minuto dato che sono le 23 ragazzuoli andremo poi a concludere buonasera a lei andiamo poi a concludere e a continuarlo la prossima volta oddio in realtà devo cercare di capire ragazzi perché mancano ancora dei finali però vorrei dare spazio anche ad altre horror night tanto il gioco bene a male l'abbiamo capito vorrei al massimo fare un finale ancora al massimo ancora uno quello della storia che mi avete detto che c'è il finale della storia effettivamente non l'abbiamo ancora fatto lo stiamo facendo bene? lo stiamo facendo giusto? stanno succedendo robe diverse quindi forse sì questi jumps che non li abbiamo mai avuti quindi è possibile adesso abbiamo un po' tutti i materiali un giorno troverò una testa qua dentro comunque questo l'hai è capo e è a posto diciamo giusto guarda che sorriso smagliante questo qua è quello che cantava danzo e canto sotto la pioggia no era canto sotto la pioggia sì sì è incredibile questo ci farà venire un infarto ragazzi di quelli no 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 chiudigli sti cazzo di occhi vuoi vedere che li riapre? madonna mia ma come è morto in pace ma non l'avevo chiusa sta porta ok 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 oh a posto ragazzi direi che ci sia non mi ha scritto niente a petta momento paranormale stiamo per essere posseduti non sta cambiando un cazzo sul taccuino facciamogli finire tutto quanto l'effetto incredibile ma come la giovinezza la gioventù ritorna indietro ci ritorna addosso come un boomerang ti ricordi quel bellissimo pomeriggio alle cascate ti ricordi cosa hai provato quella sostanza simpatica beh non sta cambiando niente nel disegno ragazzi quindi siete dei bugiardi però vabbè vi vogliamo bene lo stesso di no è il segno vicino alla stampante l'abbiamo già usato la t l'abbiamo già messa vieni qua vieni qua pezzo di fango vieni qua e lui se la ride direi che cuidiamo qua eh andiamo a vedere su steam quali sono i i finali o comunque le robe da fare perché abbiamo appunto di turni abbiamo fatti tre incredibile quanto cazzo io ci metto a farli tre turni due possessioni un demone esorcizzato quattro otto corpi che sono stati come è possibile ma se abbiamo fatto tre turni e in ogni turno ci sono tre corpi come cazzo ho fatto a farne otto sono proprio esperto e tre corpi bruciati evidentemente mi piace varlo e niente poi tra l'altro sto continuando perché volendo posso fare un nuovo turno e non vorrei che facendo new shift mi mi rasa al suolo il salvataggio ne hai fatto uno ora ma me lo conta non credo mi conterà questa roba qua me la conta quando abbiamo finito il turno ragazzi nel finale prima hai fatto due corpi ah già giusto è vero infatti solo due vabbè allora andiamo a vedere qua il volo tra i come si fanno vedere ecco i qua gli achievements allora questi sono quelli che abbiamo sbloccato trova tutti i finali demotation turbo non fa nulla che cazzo vuol dire 10 su 10 immersion ci immergiamo ancora speedrun completa il gioco sotto i 45 minuti trova tutti i pezzi ah trova tutti i pezzi della storia in balsama 100 corpi ma siamo fuori light em up bruciani altri 50 poi ci sono 5 nascosti i dettagli verranno svelati dopo lo sblocco quindi questa roba qua non lo saprò mai però su playstation si possono vedere beh ecco perché le console sono migliori dei pc cosa cosa me l'ha detto si l'ha detto ma ma non è finita qua bestiaccia adesso sapete cosa voglio vedere con voi il trailer il gameplay trailer di ben 8 minuti su wukong no non sono strabico ragazzi sto guardando altro che non siete voi c'era una roba sul moscerino sullo schieno wukong ve lo ricordate il gioco cinese della scimmia il gioco della scimmia cinese c'è nel senso avete capito black meat esatto il mito nero avete ve lo ricordate no non lo conosco attenzione perché è un gioco che dovrebbe rifarsi a quella che è ormai una catena ludica di divertimento di puro divertimento e agonia chiamata front software un altro souls like dei miei stivali in realtà non penso sia souls like sinceramente però vabbè molto più simile a secchio più che altro che racconta i miti giapponesi e i cinesi scusatemi il mito dell'uomo shimia della divinità shimia dio shimia come cazzo si chiama riavvia stima intanto mi è partito voglio vederlo con voi perché io abbiamo visto gli otto minuti che avevano rilasciato tempo fa adesso hanno rilasciato l'invidia il navid invidia la casa quella che sviluppa le schede grafiche gli aggiornamenti bla 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 ha rilasciato ha rilasciato un nuovo gameplay in esclusiva per far vedere quanto è graficato il gioco però a me me ne frega un cazzo della grafica io voglio vedere il gameplay voglio vedere che cosa hanno aggiunto quindi adesso andiamo a vederlo si dio shimia è uscito poppy playtime capitolo 3 non vi credo perché ogni volta che me lo dite è una bugia è una bugia andiamo a vedere comunque ma sono ma sono curioso vediamo un po' capitolo 1 capitolo 2 bugiardo sei per forza un maschio son goku si esatto no no è vero bugiardi siete due maschi sono femmina non è vero wutan come sta sta bene sta bene si evolve mettiamo intanto un po' di trailer un po' di trailer un po' di trailer qua aspetta buoni fermi fermi eee allora wukong che si affer- eeeh cosa sto guardando no no cosa ma la Sony la deve smettere sti giochi ma vaffanculo pensavo fosse un DLC su Kena su Kena su Kena su Kena belli i nuovi vestiti non me ne frega un cazzo potete rilasciare un DLC o un nuovo livello questo gioco è fighissimo vestite la ragazza svestitela e rivestitela ah new game plus sti cazzi ma cosa me ne frega di new game plus in un gioco del genere è svenuto allora ragazzi Kena Bridge of Spirit è un gioco indipendente tra virgolette che poi è indipendente da un cazzo fatto da pochi sviluppatori che lavoravano all'epoca per studi animazioni Disney Pixar è bellissimo giocate sto cazzo di gioco storia interessante ambientazione straordinaria commovente per certi aspetti la trae mai ma un gameplay di una fluidità è veramente soddisfacente ve lo consiglio dura poco costa anche poco perché non è venduta a prezzo pieno e a quanto pare ci stanno facendo roba nuova però io questa roba aspetta 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 vabbè qua mi dissi che quindi possiamo combat scenarios with new enemies ah ci sono nuove nemissi ah che figata ha messo nuove nemissi nuove boss fight bello eh questo ci sta ah quindi nel new game plus aggiungono mostri eh e sarà felice chi l'ha platinato in modalità vanilla e adesso dovrà rigiocarlo perché deve per forza dire di essere il migliore a quel gioco perché il platina questo è tirarsi l'uccello molto forte finché non si stacca l'ho giocato 13.000 volte mi dispiace quindi spirit with challenge trials va bene qui ci sono gli spiriti guida possiamo modificare i tratti dei nostri spiriti guida ecco sta roba deve sparire dal mondo dei videogiochi la fotomode mi ha rotto il cazzo ragazzi cioè io i social anche nei videogiochi non li voglio mi sono roti i coglioni mi sono roto il cazzo ragazzi non reputo non reputo non reputo sensato potersi fare le fotuzze di abono non ha un cazzo di senso perché per fare sta minchiata gli sviluppatori perdono tempo e ne perdono tanto ne perdono tanto per fare le fotografie sony mosse fissate che ogni cazzo di gioco che deve sviluppare deve avere la fotomode sony l'abbiamo capito che i tuoi giochi sono belli e colorati non ce ne frega un cazzo però io voglio giocare non voglio stare a farmi le foto falle fissare una palla falle tenere un bastone in mano ah c'è un altro spirito ma è sempre lo stesso mio che cazzo vabbè ragazzi insomma hanno giunto roba nuova carina dobbiamo vedere wu-tang wu-tang come si chiama wukong wu-tang eeeh vediamo un po' 8 minuti è questo qua si è la premiere di di nvidia vediamo un po' se riusciamo state boni fermi mettiamolo al massimo della definizione preparatevi per questo gioco straordinario ha ben 2k di qualità geforce eccolo qua godetevelo ve lo state godendo questo è il vero nero ragazzi e si parte con il disgusto cioè io adoro gli insetti ma molti di voi magari no siamo una cicala che cazzo è ma intanto non è mai in hd mai ma che cazzo ma è enorme pensavo fosse piccolo dalla prospettiva pensavo fosse piccolo è pelato quindi è simpatico bene un ceffone notare come noi decidiamo di menare un gigante con un bastone e effettivamente lui non sta sentendo un cazzo beh però la fisica e le animazioni sono una figata i vestiti si muovono beh ma lui è invincibile e quindi finisce il gioco ah si sdoppia buono alla naruto ma no dino i cinesi l'hanno inventato prima non me ne frega un cazzo e mo è un bebé gigante si ah ma quindi possiamo ma scusa è esplorabile cazzo ma mi da delle vibrazioni alla monster hunter allora potrebbe essere un bellissimo gioco ragazzi si può ciappare su roba vabbè solito santuario di sta ceppa dove c'è il salvataggio immagino fiorellini e robe quando lo accendi perfetto ha anche un po' rotto il coglioni però va bene magari fatelo diverso la prossima volta ah la natura intanto devastiamola a posto scritte incomprensibili credo abbia salvato il gioco e se ne va la grafica ricorda god of war ma insomma ragazzi allora purtroppo sto video fa un po' cagare in realtà perché nonostante sia in 2k la definizione fa schifo non so come mai però graficamente è superiore ragazzi perché questo è pensato per un hardware pc con rtx bla 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 quindi insomma è una roba un po' è molto lento quando corre il tecnicismo di gameplay ci sono ben 5 modalità di corsa la corsa lenta la corsa molto lenta la corsa estremamente veloce la corsa un po' lenta e un po' veloce te li metteranno tutti insieme e confusi così tu schiaccerai il r3 mille volte per capire come andare perché se non è difficile il gioco non è frustrante e allora non è divertente ok bene un fungo è diventato un antropomorfo con la barba bellissimo sto a fare però vedete che i colpi non li sente il nemico fa un po' cagare cioè a qualcuno si comunque lo proviamo e lo prendiamo se il mio pc regge ti ha dato un bacio grazie bello va bene ok quindi bello i particellari sono fighissimi minchia è diventato un arbitro di tennis per un attimo hai dato una stangata in faccia salto in lungo eccolo là apposta salto con l'asta che salto in lungo cioè è saltato in lungo con l'asta ma sono dettagli quindi no ah questo è il menu ottimo un mmo coreano ma possiamo scegliere i tratti della scimmia o per forza è fatta così cioè il personaggio è fisso perché mi fa un po' cagare cioè è una scimmia le scimmie fanno cagare sì l'ha detto non mi piacciono le scimmie ragazzi il cazzo volete non è il mio non è il mio spirito guida si lanciano la cacca e quindi adesso e beh ma ma io sento delle voci ma non capisco se è il narratore che sta spiegando il gioco e la madonna ha aperto un portail attenzione sotto la cascata c'è un tesoro si infila sì no la grafica è bella ragazzi buonanotte Garold è stato un piacere come al solito il narratore è cinese solo lui il resto del gioco non si sa madre ignota l'albero della vita io quello che mi interessa e voglio scoprire di questo gioco è tutto quello che c'è di mitologico legato alla scena perché ha leggende che sono antichissime e a quanto pare in questo gioco ce le ficcano un bel po' questo è un drago un bellissimo drago bello mamma mia che figata che bello che è ragazzi che animazioni ma poi poter giocare a un gioco dove il protagonista è bellissimo sta roba che si sdoppia mi mette mal di testa è diventato di pietra Mortal Shell sapevo che Mortal Shell avrebbe cambiato il mondo videoludico ottimo ha dei dei dell'incensiere sulla schiena è il suo punto debole ma certo non si capisce un cazzo sta giocando su pc comunque cioè sta giocando su pc testiera vedete guardate c'è il simbolino del mouse qua e l'ha scritto 1 2 3 4 5 nella selezione delle abilità questo è un pazzo sta giocando sul pc è un gioco che palesemente va giocato con le mani e non con i piedi cosa perfetto però non gli leva un cazzo ah vedi figo tra l'altro le boss fight sono anche abbastanza facili da capire nel senso non da capire perché è un casino le animazioni però capisci dove devi colpirlo il nemico quindi se ne sono studiate anche bene che cazzo sta succedendo che diavolo è sta roba che è sta musica no ma cosa quindi ti puoi ma che ma è uno dei mob che incontreremo puoi trasformarti in altre bestie a me piace un botto ragazzi mi ricorda Monster Hunter come sistema di combattimento schiacciagli la testa ah così figo 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 peccato questo video abbia un po' non so non è che sia il massimo della qualità a scoreggia giustamente ottimo perché ovviamente non è una boss fight se non c'è un attacco ad aria e gasoso io li chiamo così le scoreggia attacco ad aria e gasoso perfetto ci sta un sacco zio fra è vero e concludiamo con un rotto buono 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 nella mitologia il tizio shime ha più di 100 trasformazioni diverse ah ok grazie quindi è un è una divinità so che è una divinità giusto quello che sicuramente conoscete meglio di me io non mi sono mai informato ma mi affascina un sacco la mitologia la cina più del giappone francamente è sempre stato così fin da piccolo c'è jackie channa ragazzi è una divinità buono che è ishinuha punto com insegnatevelo finito beh allora allora così su due piedi anche se sono seduto francamente francamente non mi dispiace per niente sono molto curioso di provarlo sicuramente lo acquisterò mi chiedo se uscirà anche su console se le console saranno degne di lui è uscito il trailer di poppy playtime 3 il gioco esce il prossimo anno e allora ma non dico con esattezza quando va bene dino mannaggia intanto sono femmina ottimo ottimo c'è su youtube il trailer di poppy playtime ancora basta ho capito adesso lo guardiamo potresti guardare il trailer di bloody hell oh madonna ragazzi non iniziate con i tre guarda di qua guarda di là boni boni ma è dark souls non ci vedo un cazzo di dark souls io francamente mi ricorda di più sekiro e mi ricorda anche coso non mi viene il nome dai su monster hunter si andiamo in vacanza forse dall'1 al 4 forse dall'1 al 4 se riesco a prenotare in tempo ragazzi me ne vo me ne vado al lago oggi saluta la playstation 4 attenzione mi dispiace ghost of sushima perché dici dove ti ricorda ghost of sushima perché ci sono gli asiatici vergognatevi ma dove cazzo ricorda ghost of sushima non ci sono katane non ci sono cavalli non ci sono ah per la raccolta delle materiali vabbè ma lì ci sono 400.000 giochi o le ghost of sushima io parlavo mi ricorda cosa monster hunter per come combatte coi mostri no tipo quando si è trasformato nell'uomone di pietra si vede che sono movimenti scriptatici che tu gli dai un comando e poi non puoi annullarli un po' come il monster hunter quando c'è il martellozzo che se devi fare la caccia no per dire faccio un esempio a cazzo perché il monster hunter non lo conosco bene però all'arma hai una combo e quella combo lì una volta iniziato la sequenza d'attacco non puoi stopparlo a meno che ti colpiscano a meno che finisci appunto la sequenza d'attacco c'è la combo la wumbo combo mi ricorda banana kong non so perché dovrebbero fare un gioco dove il protagonista è Andrea esiste e si chiama vita qual è il tuo gioco preferito il gioco di Andrea la vita si è rotto e mi sono abbonata per consolazione la playstation cristo è uscito questo gioco no dovrà uscire non so quando non ci ha dato saperlo l'anno del topo allora andiamo adesso poppy playtime ma io credo che il trailer l'abbiamo già visto eh francamente credo che ve l'ho già visto che c'era si la mano lunga esatto no nel 2023 ma la madonna ma per 10 minuti di gameplay l'altro ha durato quanto è durato 5 ore allora il primo mi è piaciuto un botto il secondo mi ha fatto stracagare in confronto al primo ragazzi ve lo dico il 3 spero sia interessante perché il secondo capitolo rispetto al primo secondo me è stato un flopone della madonna cioè carino divertente ma non ha assolutamente lo stesso appeal del primo capitolo ma proprio zero proprio zero beh è sempre la stessa roba per adesso tante mani ah stavolta ho un ragno ancora la mamma ma non era morta la mamma altri minigiochi momenti confusione tra l'altro questo è proprio un gameplay trailer diversamente dagli altri di trailer dove c'era una cutscene non mi piace preferisco un trailer più tanto il gameplay è quello ragazzi buonasera è tornato è tornato è tornato ma è questo il trailer è il trailer ufficiale il primo non lo batte nessuno no anche perché è una novità il secondo sarei già visto secondo me ma è questo il trailer ragazzi che avete visto voi un giorno fa due giorni fa un diciore fa no mi sembra questo qua penso allo stesso è diverso ok quello di prima forse era un fan made la mamma morta e il prossimo nemico sarà qualcosa di lungo comunque la maschera un uomo gas ah ma quindi è un prickle di breaking bad capito non mi inquieta mi inquieta di più il resto più che altro perché secondo me il primo non lo batte nessuno 2023 202 3 perché il primo non lo batte nessuno perché nel primo c'era appunto il mostrone che non mi ricordo come cazzo si chiama vabbè chiamiamolo Poppy perdonatemi ragazzi i nomi non me li ricordo il mostro quello blu con le braccia lunghe che se ne va in giro e cerca di divorarti il gioco dura 20 no cos'è un'oretta 40 minuti tipo 40 minuti di pura sta zitto sta zitto 40 minuti di pura tensione anche sessuale e di terrore che ti porta ad avere appunto cioè ti appassioni subito al gioco anche perché è un gameplay semplice e dici è un gioco indipendente non chiedo un cazzo anche perché costa 4 euro perfetto il secondo capitolo che costa 20 euro cioè se pensate da 4 euro a 20 euro ci sta che chiedano di più perché ha fatto nome adesso costerà di meno ma all'epoca costava 20 euro il gioco dura anziché 40 minuti dura 5 ore pallosissime dove devi far sempre le stesse tre robe hai lo stesso gameplay con le mani fai la stessa identica roba semplicemente c'ha la 4 più lungo ma il nemico è lo stesso perché la mamma se ci pensate è identica al pupazzone abbraccia tutti è uguale non cambia un cazzo solo che allunga le mani però è la stessa roba quindi non lo so mi è dispiaciuto qui invece c'è un altro nemico se cambiano le cose mettono un altro personaggio possono anche mettere altri gameplay perché tu hai un input diverso poi nelle idee quindi che cazzo non so se questo spara il gas ci saranno per dirmi ho visto la maschera a gas immagino che ci siano delle sezioni magari con della nebbia delle nubi tossiche nella nebbia magari sono nascosti dei mostri Stephen King Mommy Long's Legs esatto buonanotte buonanotte pensi di portarlo o piscia? che? lo porto si conosco Emily Wants to Play come pensi di Warhammer 40.000 del gioco che uscirà ovvero Space Marine 2 bellissima saga non sono particolarmente appassionato degli strategici però è una bella saga non mi sono manco informato su Space Marine 2 li coloravo e li facevo poi ho smesso perché costavano un occhio della testa non a me ai miei genitori perché e poi alcuni ho cercato di mangiarle mi piace il profumo della vernice e la crema dell'IKEA è buonissima non mangiatela però sappiate che è buonissima allora ah si buono un po' di music e ci siamo Mark grazie mille per 17 mesi sempre fedeli roto Valhalla Madison ragazzi non lo portiamo più è una rottura di cazzo quel gioco non mi interessa mi dispiace così come non riportiamo più Cry of Fear non chiedetelo mille volte Cry of Fear è finito perché per poterlo finire dovrai cazzo scaricare citarlo e modarlo perché sono arrivato in un punto dove non ho più armi non ho più cazzo e dovrei ricominciare da capo il livello non lo faccio non c'ho voglia perdonatemi non c'ho voglia no ma non fa non Madison ragazzi non mi piace non so che cazzo dirvi non mi ha preso per niente preferisco giocare a coso a questo qua io sono sincero non non mi piace giocare contro voglia le robe anche perché se la gioco contro voglia non porto neanche non faccio una buona pubblicità al prodotto perché alla fine è questo che fa uno streamer ragazzi sti cazzi non pigliamoci per il culo noi pubblicizziamo i videogiochi e a parte intrattenere per carità farci compagnia però per carità però alla fine noi quello facciamo pubblicizziamo il prodotto e a me piace e la cosa che mi piace di più di fare questo è poter pubblicizzare il videogioco che è una forma d'arte che io adoro ma se il gioco mi fa cagare è inutile non lo porto è per un altro tipo di di giocatore non è per me cosa ne pensi della birra all'idromele la birra all'idromele vuol dire l'idromele o la birra sono due robe diverse div rising non dovevate fare una mini serie o mi sono persa qualcosa si dovevamo fare qualcosa ma siamo dei bugiardi cult of the lamb è molto bello speriamo la prossima volta ah tra l'altro ho scoperto che cazzo è successo ragazzi sapete perché non funzionava niente in cult of the lamb con twitch con l'interazione con twitch perché c'era scritto se andate a rivedere la live lo vedete anche voi ma io non l'avevo letto lì per lì che dava un problema cioè stavano facendo un aggiornamento e quindi alcune delle funzionalità non avrebbero funzionato a quanto pare quelle alcune funzionalità sono tutte le tue funzionalità disponibili non funzionavano a minchi domani cosa c'è domani io ragazzi questa settimana voglio portare handling non so se Andrea l'ha messo in coso in programma ma handling quello delle volpi lo voglio continuare andate su discord perché abbiamo un discord e lì trovate la programmazione settimanale ci sto andando anche io adesso perché non mi ricordo che minchia c'è domani vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' nella programmazione live troviamo handling a posto domani c'è handling visto? visto? Andrea l'ha sicuramente cambiato adesso Aurora il gioco Nioh che ne pensi? Nioh non mi interessa ho già provato troppo troppo per me cosa ne pensi della birra al vino delizioso delizioso preferisco però il vino alla birra o il gelato alla pasta cioè ti sensiziona hai visto il trailer della serie tv della stufas madonna Taurus non ne parliamo per favore non ne parliamo perché è una cosa uscena quella roba lì è una cosa uscena e c'è gente che si ostina a difendere gli attori eh ma lui è fantastico in games of thrones in mandalorian a me non me ne frega un cazzo sarà un bravissimo attore ma non ci azzeccano una minchia con Ellie e Joel io non riesco a vedere quella roba lì non ce la faccio non ce la faccio avete visto il trailer ragazzi dai porca troia è allucinante no ma non si può ragazzi hai visto Shulk no non ho neanche visto devo finire di vedere Buzz ragazzi non ho visto un cazzo recupererò perché mi sto recuperando games of thrones perché non l'avevo mai visto ve l'ho detto sono obbligato a guardare games of thrones è particolare un po' è un momento particolare della mia vita porterai Sally Face l'abbiamo già portato mi sa o sbaglio io manco sapevo che ci fosse un trailer è uscito un trailer dopo diverse pubblicità da diversi leak hanno fatto vedere un mini trailer l'HBO l'ha rilasciato e indovinate un po' beh fa cagare cioè in realtà è abbastanza fedele al gioco perché riprende alcuna scena del gioco però Ellie io non ci riesco questo è il mio commento non ci riesco io guardo quella roba e non ci riesco non ce la faccio io non capisco perché non riescano a fare qualcosa che deriva dal videogioco nel media filmico quel cazzo che è serie tv eccetera che sia decente non ce la fanno proprio cioè sembra che decidano di dire no non facciamolo diverso ma perché cazzo c'hai già gli attori io continuerò a ripeterlo un'idea secondo me fantastica sarebbe stato fare un lungometraggio in cgi tu prendevi gli attori gli facevi fare sempre le loro parti e facevi in cgi quindi un film d'animazione con la grafica di The Last of Us facevi un cazzo di The Last of Us cioè non un cazzo non un cazzo di un clicker capitami cosa intendo dire facevi The Last of Us in cgi sarebbe stata una figata e invece no eh ma che costava troppo ragazzi ma secondo voi non costa uguale pigliare degli attori mandarli a fare in culo dall'altra parte del pianeta perché lì c'è l'ambientazione che ci interessa dall'altra parte c'è l'ambientazione estiva dall'altra parte c'è quelli costa comunque perché probabilmente vogliono fare due robe distaccate perché così puntano ad un audience diverso ma se l'audience è quello del videogiocatore perché da lì che vi è la gente che guarderà The Last of Us non è il tizio che è uscita una nuova serie televisiva no è la persona che ha già giocato al gioco perché altrimenti è l'ennesimo fottuto Walking Dead di merda dai non pigliamoci per il culo non sono sicuro comunque che costi molto di più non sono sicuro secondo me costa molto di più costa più tempo ma non costa di più anzi secondo me costa anche meno gli occhiali nuovi si sono fottuti sì ma ci ci stravano anche gli attori eh gli attori The Last of Us è stato fatto dagli attori veri i personaggi che tu vedi sono i motion capture recitano dentro una stanza dentro gli studios della Sony adesso della Naughty Dog che dovrebbero essere in California lì hanno fatto Uncharted The Last of Us e anche delle sezioni di God of War Santa Monica perché ovviamente poi è tutto un ciuccia ciuccio un magna magna sono tutti i collaboratori tutti i colleghi hanno fatto anche delle sessioni di God of War lì fanno il motion capture per i videogiochi per le cazzine dei videogiochi The Last of Us 2 che è qualcosa di allucinante veramente un bellissimo gioco e ha una cosa come boh 15-20 ore di film che poi loro hanno spezzettato per fare le cazzine del gioco che c'è tra una sessione di gameplay e l'altra Sandman non l'ho visto ragazzi Mr. Aras grazie per il 21 c'è un continuo di Happy Humble me lo continuate a dire e continuo a pensare che il continuo di Happy Humble in realtà sia un prequel vabbè ti piace Doctor House? no bestiacce fate i bravi fate i buoni noi ci vediamo domani alle 21.30 con Handling il gioco sulla volpe ve lo ricordate il gioco sulla volpe il gioco sulla volpe è quel gioco dimenticato perché poco prima è uscito il gioco sul gatto incredibile ma vero ancora una volta i felini fottono i cani e a me questa cosa mi brucia tanto perché è ovvio ed è oggettivo che i cani sono superiori in tutto rispetto ai gatti detto ciò appunto domani c'è il gioco su Handling il gioco della volpe che tra l'altro è un bellissimo gameplay lo continuiamo cerchiamo di fare sopravvivere sti cucciolotti oppure li facciamo morire in modi orribili perché alla fine voglio dire noi siamo Dio nel videogiochi e Dio non è misericordioso fate i bravi fate i buoni e niente buonanotte fate i bravi fate i buoni grazie di tutto bestiaci vi voglio bene ciao ciao